Oggi ci occupiamo di un brano famosissimo della volta della Cappella Sistina, la creazione degli astri, del sole e della luna, ed è un brano famosissimo quanto mal compreso. Andiamo a vedere perché. Guardate questo signore volante, quello che, ricordate la supposta del cervello, la supposizione del cervello, allora questo signore volante, questo Dio barbuto, questo Dio crea il sole e guardate, con il braccio destro, quindi la nostra parte maschile, crea il sole. Perfetto. Con il braccio sinistro, la nostra parte femminile, crea la luna. Magnifico. Qui Michelangelo, ancora una volta, conferma la sua conoscenza cabalistica o esoterica sulla nostra parte maschile e femminile. Tutto torna, ancora una volta. Ma andate a guardare bene, andiamo a guardare bene cosa non abbiamo visto. Si crea il sole, la luna, gli astri, eccetera, eccetera, ma l'espressione di questo Dio è molto severa, guardate, molto arrabbiata. Molto, troppo, guardate bene. E cosa fa, secondo voi? Il trono papale si trovava proprio di fronte a questa rappresentazione, quindi riusciva a vedere questo Dio che indica, che suggerisce qualcosa. Cosa? Cosa? Forse l'espressione così arrabbiata nei confronti del Papa, ancora una volta Giulio II, gli indica l'uscita. O è un modo per dire, vattene, quella è la porta. E se non ci credete, guardate allora l'altra figura in cui Dio dà le spalle al Papa. Guardate come si è divertito a modellare le chiappe, le divine chiappe. Mostra il sedere al Papa, al Pontefice. Quindi davanti agli occhi di tutti, davanti allo stesso Papa, il Papa più terribile della storia, uno dei Papi guerrieri, che per fortuna aveva grande stima di Michelangelo, mette questo atto irriverente, ancora una volta. Ma per molte persone, per qualcuno, questa cosa non esiste, non c'è. A me non interessa ancora una volta. Questo è solo un gioco, ma come gioco può far riflettere. La realtà non è come sembra. La pittura non è come sembra. E le parole descrivono la realtà. Una volta che il cervello sa questa cosa, che noi sappiamo questa cosa, la vedremo sempre, la riconosceremo sempre. Fate un esempio, fate un gioco. Chiudete gli occhi e riguardate l'immagine. Vedrete questo Dio arrabbiato che mostra l'eterga al Papa. E a tutti noi. Ciao e grazie.